Sì, possiamo consigliarla a tutti i nostri amici tenendo presente che le peonie sono piante da clima continentale per cui in inverno avrebbero bisogno di un po' di freddo per fare delle fioriture spettacolari, per cui ad esempio se uno vuole coltivarle in Sicilia va benissimo, basta che sia un po' più alto del livello del mare, non consiglierei delle peonie a livello del mare in pratica. Perché c'è il problema che non si abbassa tanto la temperatura, risentono secondo me anche un po' del salino marino per cui non è una pianta prettamente mediterranea, anche se è molto resistente al secco, non è proprio una pianta mediterranea. Calcoliamo che le peonie in natura sono tutte piante che vivono in montagna sui 1300 metri, per cui copiando quello che succede in natura noi riusciamo a posizionarle nella maniera migliore. In natura appunto vivono in montagna, in mezza montagna, in terreni sassosi, quindi di lì capiamo il buon drenaggio, in pieno sole e quindi capiamo l'insolazione e capiamo anche l'esigenza di freddo, quindi capiamo che le peonie non sono piante difficili per quanto riguarda il clima, quindi non soffrono il freddo, però hanno bisogno di un po' di freddo per fiorire bene. Bene, allora abbiamo visto insieme a Giovanni quali sono, diciamo così, le condizioni ideali per far sì che le nostre belle peonie possano crescere belle e rigogliose, soprattutto che abbiano delle fioriture generose. Ecco, una curiosità che non ti ho ancora chiesto, la fioritura media della peonia da quando a quando va? Ah, ogni pianta fiorisce, fa delle fioriture enormi ma molto brevi nel tempo, quindi ogni pianta calcoliamo 15-20 giorni se siamo fortunati. Però, dato che abbiamo tante varietà, quelle più precoci, quelle più tardive, noi abbiamo circa due mesi, due mesi e mezzo di fioritura. Nel mio giardino la prima peonia che fiorisce è una peonia mascula, e a volte mi fiorisce a metà marzo e di qui andiamo avanti scalarmente fino a fine maggio, primi di giugno, quindi abbiamo due mesi, due mesi e... Quindi se uno è amante delle peonie basta che va a lavorare sulle varietà e può avere una fioritura costante per almeno due mesi e mezzo. Sì, più o meno. Una cosa che non ho detto, parlando del terreno, ecco, le peonie sono abbastanza adattabili per quanto riguarda il pH del terreno, per cui non sono acidofile come molti mi dicono, amano i terreni generalmente neutri, però sono piuttosto adattabili, per cui se è leggermente acido o leggermente alcalino non è un grosso problema, però non sono piante acidofile, quindi non andate a mettere terra acida sulle peonie, come moltissime persone fanno. Bene, quindi, allora, abbiamo ulteriormente specificato anche questa cosa, quindi Alessandro, Giovanni, anche perché ormai la luce ci sta abbandonando, vi salutano da questo bel posto, vi rimandano al prossimo video e vi ricordano sempre di mettere un bel pollice in su. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima! Grazie a tutti.